Da solo non basto, nella Sala Freiano del Laurum di Pescara, da oggi fino al 18 marzo, la mostra allestita dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo è creata per il Meeting di Rimini 2023 da Daniele Mancarelli con illustrazioni di Giacomo Bettiol. Facciamo molta fatica a comunicare tra generazioni, facciamo molta fatica a trasmettere tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con il desiderio di felicità che alberga nel cuore delle persone. Abbiamo visto, proprio da questa esperienza che ci è stata raccontata e che ci hanno narrato quando abbiamo potuto guardare la mostra, che guardare questi ragazzi con uno sguardo diverso, ascoltarli davvero, farli sentire importanti per la nostra vita è un elemento fondamentale. Questo non significa permettergli di fare tutto quello che vogliono, ma significa semplicemente ascoltare il grido che viene dal loro cuore. La mostra rappresenta una modalità privilegiata per avvicinare gli studenti, i cittadini e più in generale tutta la comunità alla realtà dei ragazzi, proponendo un'immersione nell'universo giovanile, facendosi eco di domande, attese, ferite, desideri che lo animano e documentando alcuni tentativi di ascoltare e rispondere alle tensioni che lo abitano. Da solo non basta vuol dire che devo essere con qualcuno e la mostra porta l'esempio di tre realtà, Piazza di Mestieri, Cairos e Portofranco, che lavorano con i giovani e che sono nate a partire da riconoscere questo fatto, che i ragazzi sono, come diceva Don Bosco, anche il più disgraziato, ha una corda sensibile che se riesce a farla vibrare puoi rimetterlo in moto. Sono realtà che provano a rimettere in moto i giovani e rimettere in moto anche gli educatori che vi lavorano. Anche a Pescara, dove non ci sono queste realtà, ci sono associazioni che lavorano nello stesso modo, con lo stesso scopo, e la mostra è un aiuto ad aprire gli occhi, a guardare che in un attimo uno può prendere una strada che ti porta alla disperazione, ma in un attimo uno può anche incontrare qualcuno che ti può accompagnare nella vita. La mostra, da solo non basta, è possibile grazie alla collaborazione di Cairos, Portofranco e Piazza dei Mestieri. L'ingresso è gratuito ed aperto dalle 9 alle 14 e dalle 15 e 30 alle 19 e 30.